l'8092 collezione di italia repubblica di francobolli usati in tre album gli album hanno anche la loro la loro custodia qua ci sono gradazioni di colore la qualità generale dei francobolli è mediamente buona ottima anche qui il collezionista ha messo qualche cosa con gradazioni di colore differenti i ginni ci sono con annullo da verificare comunque non hanno certificato qua siamo al 56 italia lavoro stelle e da qua in poi vado un pochettino più veloce questa appartiene sempre a quella categoria di collezioni di quel collezionista che si costruiva già l'album da solo qua sono gradazioni di colore della michelangelesca oltre che la serie completa stessa discorso per la siracusana dove ci sono anche vari doppioni sono tre album sono tre album è ben curata decisamente è ben curata decisamente A presto. andiamo al terzo e ultimo album la collezione si ferma qui al 1987 anche qua a volte ci sono sempre dei doppioni c'è l'alto valore al 20.000 lire se volete altre informazioni o video scrivete a filateliachiocciola4baiocchi.com